Ho preparato una cosa speciale, mio Dio, che cosa sto per fare? Una cosa speciale, una performance che allora, che voglio regalare a tutti voi, dedicata ad Adano Orloni. Adano Orloni, sai che io ti troverò, ovunque tu sarai, ti tricherò. E stringerò il controller fra le mani, mentre cercherò il tuo hitbox, che splendida nell'opera parerà. Un pimpato come adesso, non lo sono stato male, e quando la reazione avrò, se davvero mi vuoi bene, tieni giù lo scudo e la mia clego, arriverà. Ma non vorrei che tu, alla corte di sé, stai già testando un altro vuoto. Mi sento deceduto in un umano, e dove prima tu schivavi, ti ucciderei di puro culo sai. Un pimpato come adesso, non lo sono stato male, e quando la reazione avrò, se davvero mi vuoi bene, tieni giù lo scudo e la mia clego, arriverà. Un pimpato come adesso, non lo sono stato male, e quando la reazione avrò, se davvero mi vuoi bene, tieni giù lo scudo e la mia clego. Ci sono stati alcuni piccoli problemi tecnici, cioè la Playstation non avviava Demon's Souls, ma ora sembra che le cose funzionino, e questo mi fa molto piacere. Cerchiamo di avere un approccio, come da titolo della live, un approccio degno. Sì, anch'io ho dovuto riavviare la console, ho dovuto spegnere il gioco e riavviare la console. Un approccio degno di una live per bambini, ecco. Allora, ho fatto qualche livello, ho fatto qualche livello, come vedete ora la nostra River ha addirittura delle scarpe, dei calzari o qualcosa del genere. Siamo messi così. Siamo messi così. Siamo messi così. 17 in vitalità, 17 in resistenza, 19 in forza. Allora, qua poi in realtà la verità è che qua c'è un sacco di gente adesso. Vero? Mi ricordo che ho visto un sacco di gente. Sì, sì, sì. C'è un sacco di gente. Questo tizio non ci parla. Oh, caro condiscepolo, cercate la potenza di Dio. Cercate la potenza di Dio? Ah no, questo è quello dei miracoli. I miracoli sono atti celesti, incantesimi atti demonici, opera delle arti dell'alba. Hanno effetti simili, ma i primi palesemente malvagi, gli altri palesemente buoni. I maghi, in fin dei conti, non sono che servi dei demoni. Ok. Un pragmatista vorrei diventare. Ah, questo ci parla del venerabile, non mi ricordo cosa. Che vorrebbe recuperare, uno di quelli grossi. Uno di quelli grossi della sigla, tipo. Ma siamo abbastanza sul fregandante. E mi sembra ci fosse un altro tizio, oltre a Ostrava e alla nostra amica. Però forse era di sopra, boh. Non lo so, fatto sta che... Qua si tratta di andare a prendere le botte dal tizio gigante. Con calma. Andiamo al 2.1. Andiamo al 2.1. Vediamo quante botte dobbiamo prendere oggi. Grazie mille, Asenath. Ah, ma rimane? Ah, ma rimani tu? Yes! Scheggia di pietra dura. Lo vedete, giusto? Vediamo. Non è la differita. Ok, si legge, si legge, si legge. Oggi mazzate brutte, temo. Dobbiamo entrare là dentro. E benché i danni che facciamo siano pochi, crederci tantissimo. 10, 9, 8, facciamolo. Ehi. Aia, ma che cazzo? Ma basta, ma PD! Bene, già... Corcati di mazzate. Perfetto. Bell'inizio. Allora, qua non è che non mi ricordo niente. Credo di non averla letteralmente mai giocata, questa era in vita mia, quindi... Cioè, mi ci sarò affacciato, tipo, ma poi spaventato fuggì. Qua non è che si fanno delle buzz, eh? In realtà sì. In realtà sì. Cioè, ho paura di schiattarci. Magari più avanti si trova l'anello di sta ceppa. Eh, là ci sono degli oggetti, ragazzi. Qua si fanno delle buzz vere, ma probabilmente non adesso. L'anello anticaduta, come si chiama? Ok. Ora io non so niente. Quindi affondi, eh, con sti tizi. Madonna, non danno neanche niente a livello di anime. Cioè, sono proprio i tizi beffa. Ok. Mamma mia, che scarsa soddisfazione. E tu sarai la versione grossa, immagino. Oh. Ok. Macchia di sangue. Vabbè, lui è morto qui dentro. Non ho capito esattamente come, ma non importa. Guardiamoci intorno. Questa forgia. Cosa forgeranno in questa forgia? Non lo so. Miseria. Ticac. No. Sono tanti, eh. Il tizio lì ha il sacchetto dell'immondizia. Deve vuotare il rusco, come si dice dalle mie parti. Anche questo. Bello. Adesso mi è piaciuto molto. Ah, doppio. Scheggia di pietra guzza, pietra guzza, pietra dura, pietra dura. Queste non le avete lette tutte. Ok. Ok. Un sacchetto di pacciame. Esatto. Sì, siamo già blind. Io non mi ricordo una fava di questa roba qui. Ma lui è lo stronzo del tizio gigante. Ma come cacchio è possibile? Lupo. Cani! Oddio, mi è rimasto in mente di fare questa... Ma te ne vai a zappare? Ah, ma io voi non avevo mica visti, eh. Non vi avevo mica visti. Via, sai me, Simon. Vai a zappare. Come cazzo si chiama River? Ah, sei uno stronzone di queste proporzioni. E meno male che i muri murano. Guarda che bello l'effetto della luce laggiù. A me piacerebbe che lui venisse qui. Ah, ma qua mi sto per beccare un attacco in salto, tipo. Ma quanta simpatia! Ridi, ridi. Cazzo, fai bene a ridere, porca miseria! Mi ha fatto tantissimi danni. Non so se qualcuno l'aveva notato. Aspetta, aspettami. Non ti triggerare. Merda. Merda, piove. Mi meraviglio che non si fosse... Ma guardate tutta la struttura. Ma io non l'avevo mica mai presa in consideration. Ma io mi sto cagando addosso, ragazzi. Io come cazzo... Vabbè, siamo buoni. Eh, però... Eh, però sei un po' pippa, eh. No, forse no. Mazza che panza! E' morto da 548! Ottimo. Erba piena. Vabbè, non c'è bisogno che ve lo dica che lo vedete. Pezzi fighi per pimparsi. Passaggio seg... Vabbè, va a zappare. Ma come fa questa str... Come fa questa strada ad essere chiusa? Esatto, esatto, Nervolo, esattamente. Come fa questa strada ad essere chiusa? Che io non ho visto nessun modo per fare altro. Ah, ma c'è tipo una porta lì. Con un tizio che aspetta e spera. Maddonna, i detacca. Sei veramente il peggiore, lo sai, vero? Eh, vaffanculo, me lo sono preso, benché lo sapessi. Incredibile. Merda, che brutto posto, però. Ma siete più grossi? Eravate più slim prima. Ma guardalo, ma guardalo! Vaffanculo! Vieni qua, seguimi. Seguimi per piacere. Per piacere. Puoi seguirmi. Posso dire cazzo? Beh, buono, buono. Ah, me ne sparo subito una. Entriamo da dove è previsto? Oh! Oh! Ok, easy, easy. Non c'è più nessuno. Allora. Invia a deposito. Piccone inviato a deposito. Figo, figo, figo. Beh, il capezzolo, ragazzi, ce l'hanno sia i maschi che le femmine. Ma posso inviare a deposito cose che ho già nell'inventario? Cosa sto facendo? Cosa sto facendo? Come si fa? Come si fa? Questa cosa è stupenda. Grazie mille, Matteo, grazie dei quattro. Ma come faccio ad essere così full che non ho un cazzo con me? Questo collegamento con il deposito. Ma boh. Ma lo potrei... Forse che si... Però avete ragione... Eh, però... Però d'altra parte... Ci pensiamo. Andiamo. È una gag. È una cazzo di porca. Porca miseria, porca miseria. Ok. No! Lo troverò io. Schegge, schegge! Marta, 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 marta No, 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 dammene uno No, stupidotta Mamma, no, 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 no Arrivano Buono il doppio Buonissimo, brava Piove fuoco, sì, lo sapevo, lo sapevo Eh, lo sapevo a sto giro Zappa la terra Probabilmente è qualcosa che assomiglia molto al tuo lavoro Non sai mai se colpisce o non colpisce Figurati, i detacca se ti dà queste certezze Varebbe troppo bello Vamola Ho troppe erbe, mi incasino, vabbè Pietre a go-go Pietre a go-go Ma qua si viene a fermare O a far male Ma io cosa devo fare? Esamina i resti, anima di sbella lì Anima di sta ceppa Me l'avevo proprio bisogno Allora Qua sotto lui è talmente scemo che non ci spara Ma io non posso salire lì Là c'è una leva Credo Esatto, si vede infatti uno che lo ti Però io come cazzo Devo andare a fare tutto il giro Là crollerà di nuovo il ponte Questo è molto vicino a triggerarsi Ma io non posso più andare a rompergli Datti fuoco da solo, cazzarola Che sarebbe una cosa bellissima Forse Ma guarda Non mi stupirebbe neanche Che fosse possibile Ora sono cazzi molto amari però Devo ammazzare questo Ok, lui è fuori gittata Ok, merda, ho temuto che si facesse Un po', lo speravo un po', lo temevo Ok E quindi, cioè, il suo regno di morte sarà forever Cioè, io quando mai riuscirò a colpire quello stronzo Devo fare il caster Dovevo fare il caster, vero? Porca miseria Lo sapevo che devo fare il caster È notorio che in questo gioco bisogna fare il caster Lo sanno tutti Ma io non so Ora ci muoio qua 10, 9, 8 Faccio una cosa Ok, non crollava Maledetto Ok, qua si può scendere in realtà Ma io ci sono già stato lì sotto Ma allora perché non mi sono affacciato di là? Scusate, se io sono già stato qui sotto Ah, perché mi sono fermato lì No, non sono già stato ovunque Sono morti di morte naturale No, avete ragione, avete ragione Avete ragione, avete ragione Ok, ok, ok Eh, però, le mazzate brutte Io... Ma come si fa ad andare là? Ma lì? Ah, ma aspetta Vabbè, finiamo qui, dai Anche perché c'è la leva Quindi col caccia Un finiamo Un finiamo estremamente importante Vieni qua, vieni qua, vieni qua Vieni qua sotto Che si sta meglio Vabbè, sei lento Come una merda Beccatelo Non so cosa potrà succedere Ma se c'è una leva Io la tiro Mi insegnate Oh, cosa? Eh, guardate river così Wow Ah, questo ho droppato Bene, abbiamo aperto un passaggio Di cui ho evidentemente bisogno Senza saperlo Eh, devo ritornare a fare quel giro Come quando provai ad uccidere quel tizio Zio, zio, zio Saliamo Facciamo tutte le nostre buzz Lì c'è una cosa Speciale E sono un po' eccessivo però Io never know Angolini Angolini safe Angoloni safe Lui ride Io no Perché non ti ammazzi da solo? Ho visto tante Qua usa molto tra i nemici Come cavolo avevo fatto a salire Che non mi ricordo? Di qua sarà stato Vai di qua No, no Ma dove cazzo è la salita? Accidenti Grazie sughero Grazie dei sette Non mi ricordo più Ma cazzo Ma non siamo appena saliti a fare Ah, forse da sotto Non direi Non mi sembra un grande Ma cavolo Siamo saliti lì sopra Non mi ricordo più Ma l'abbiamo appena fatto Tipo Ma raga Ma reali Ok, ma Ok, ma Cioè non posso più risalire Eh, lo so che sono No, no, no Che sono caduto Lo so Ma non posso più risalire Devo fare il giro Devo fare il giro Sorry Ho capito adesso Avete ragione Ah, sto Tra l'altro collegando adesso Oh, no Non ho capito Sorry Avete ragionissimo Sorry Bella, bella, bella Ho capito Ho capito adesso Area molto bella in realtà Ma tiriamo lo scudo altino Eccoci qua Eccoci qua Maledetto scionzo Te va parecchio di lusso Si può fare Si può fare Grazie Garrett Si può fare di brutto ragazzi Lì si passa Io lo faccio 10, 9, 8 No Chiedo scusa Chiedo scusa Ci ho creduto forse un po' troppo Ci ho creduto forse un po' troppo Ma sembrava che reggesse quel lato lì Non fate body shaming su River Ok È confermato quindi che non verrò mai a romperti i coglioni a te Grazie mille Okami Grazie del supporto Eh sì, la via del capezzolo Ma sì che si può Raga Io ci provo No No, 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 no River, river, river Madonna Porca miseria Oh, vivo per non so quale miracolo Col cazzo che gli lascio il drop però Oh, qua c'è un oggetto importante Anima di eroe famoso Non so, conoscendo i detacca tutto può accadere di brutto Oh Guanti dell'ufficiale erba piena Va bene, ci pensiamo dopo E all'equipment Magari sono buoni Magari no Chi se ne frega Ok 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 Ok, in realtà devo rifare il giro dello schons E lo farò No, non era necessario Potevo usare il ponte del tizio Eh vabbè, dai, 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 dai Bene, l'area si è chetata Almeno per un po' E ciò è positivo Com'è, anima di Simon Come sarebbe Sarebbe veramente figo Allora, siamo qui Noi vogliamo andare là Ove abbiamo aperto la porta Con leva Beh, è molto scolastico Bello, ma molto scolastico Questo livello È proprio pre-Dark Souls Adesso ragazzi Avere detto questa cosa Scatenerà l'ira di Detacca Lo sento Non sto facendo il matto Per i muri invisibili Cosa che forse dovrei fare Soldato sconosciuto Ok Magari Perché là c'era una No No, ma c'è la nebbia No 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 ragazzi Non è possibile Ma mettimi un falò No raga Ma mettimi un falò Cioè io dopo Quando morirò Dallo stronzone Che c'è oltre sta nebbia Dovrò rifare Ovviamente Schippando l'ira di Dio Dovrò rifare Tutta sta roba qui Di corsa Cioè quindi Pensate il falò L'arcipie L'arcicazzo Da cui si parte È quello Là fuori al sole Entro Corro Ci sono i tizi Che ti aspettano Dietro la porta Ti becchi la bella falciata No No ragazzi No ragazzi Non ci credete Se c'è un arci Come cazzo si chiamarci Cosa Ditemilo Spoileratemi Se ce n'è una qui Non è possibile Non ci credo Non ci credo Ma dov'è lo shortcut Però Non ci credo No ragazzi Non è possibile Carlo Io lo penso Ma Raga Che brutto momento Di sport E qui Ma qui c'erano Mille segreti Io non ho trovato Un cazzo Ma c'erano Mille segreti Mi fido di Detaca Ragazzi Un basa Cosa vuol dire pure Un basa È solo una parola Di cui non sappiamo Il significato Mi pare Dicesse Vatividia No raga Io non ce la faccio Peace and love Amen L'ho del sole No ragazzi No Ho Millequattrocento anime Non ci credo Che c'è un boss Non ci credo Che c'è un boss Vai a zappare Dario Non ci credo Che c'è un boss No Non me la sento Psicologicamente Cristina D'Avena Così con Millequattrocento anime Aiuto Ok Non è un boss Almeno Non è un boss Non so se gioire Quella è una cazzo Di lucertola Beh la bazzina Ragazzi Ragazzi fai attenzione A nemici Ragazzi fai attenzione a nemici Come lo vedete Come consiglio Scheggia di pietra sciolta Non fatemi fare battute Che miseria Fai attenzione a nemici Grazie al cazzo Mi guardo in giro Ovviamente perché tra un po' Mi pioverà del fuoco Sulla testa Ne sono perfettamente Consapevole Allora qua si può salire O fare un affaccino Facciamo un affaccino Triggerando lui Muro invisibile Ma cos'è continua a provare Ma è come fai attenzione Ai nemici Ma veramente Veramente Che tra l'altro Stanno zappando la terra È proprio vero Ma veramente Continua a provare Fai attenzione ai nemici Questi sono i consigli Oddio ragazzi Che si può fare No sarebbe stato bello Però salire lì dentro E visitare altre aree Alla Donkey Kong Sarebbe stata una figata Eh no Continua a provare Era sembrato E veder del fuoco Ma Erba mezza Questo è molto importante Perché non oso immaginare Quante ne stiamo per consumare In follie Guarda che meraviglia La grafica però Bello Qualcosa di generico Questo gioco Cioè Comunque È ovviamente Una figata totale Però Si è un po' Genericizzato È un po' Miniera Con Assi E carrelli Forse già di su Non è che fosse È un po' così All'epoca Si parla tutto Sento ruggire Oh ragazzi Io mi cago Cosa vi devo dire Cioè è l'unico modo Per sopravvivere In questi giochi È stare cagatissimi Almeno Se la memoria Non minga Elisir Cazzo Ti prego Muori No Simon River Porca Ah comunque Sono nemici veri Cioè non sono animali Che si fanno i cazzelor Ma cosa sto dicendo Ma cosa sto dicendo Io cosa sto dicendo Eh Oh ma che è Ah anche sotto ce ne sono Ma è paradossale Questa cosa Beh d'altra parte Il loro habitat Abbiamo preso delle buzz No Non mi dite Che c'è il lag Ragazzi Non ditemi Che sta laggando Aspettate Devo fare una cosa No Ok Grazie mille guys Considerate che a volte Può laggare Per connessioni varie No Dico quel lag Orrendo regolare Che conosciamo Qualcosa mi dice Che io non ci devo mettere I piedini nella lava Non vorrei essere Di da scalico Che meraviglia però Trigger Ma ci vogliamo triggerare? Grazie Sto per replicare Quello che abbiamo appena visto Dai yes Oh yes Allora Qui chiaramente Un giorno ci saranno Gli stivali Di sta ceppa E vai nel fuoco E prendi mille oggetti rari Fai l'armatura Del drago Famelico Sì 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 Va bene Insomma noi Noi siamo Lo sapevo Grazie proprio Per averlo scritto Si capiva Grazie però Non morire qui Non morire qui Non morire qui Non morire qui Droppini 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 ok Schegge a go go Fino in basso sotto Ma lo vedete È una cosa allucinante Schegge Schegge Calma 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 Che qui si fanno le cazzate Calma Porca vacca Ah beh ma qui si cammina Ah ok Non l'avevo notato Calma Che qui si fanno le cazzate Ci sono frame Problemi Aspettate che faccio Sta cosa qui Scusatemi un attimo Perché così Me ne rendo conto Accelero Accelero Ma proprio no direi Ma io comunque Non li ho Non so cosa dire Aiuto Facciamo una cosa Questa è una figata Questa è una figata Però Quello è sicuramente L'oggetto finale Bellissimo Però Cosa ne dite Tiriamo la leva Prima A tiriamo la leva Prima Io dico di sì Ruota manovella Eh questa è la bazza E ora questo coso Funzionerà Forever And ever Portandoci direttamente qui Teodred ti ho letto Dice Ma cosa sta scrivendo Ma dove ho già sentito Queste cose Sì sì Ma se c'è un lag Ogni morte di papa Ragazzi Non è minimamente un problema Rispetto a quello Che abbiamo patito In passato Anima di eroe Sconosciuto Bene Adesso Capitalizziamo Siccome abbiamo Preso cose Capitalizziamo Oddio Una bestemmia Che mi sta per uscire Ma ok Ok Ah no Eh stiamo a bordo Stiamo a bordo Eh cose Cose No cosa Oh no 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 Oh merda Ma cosa Ma che posti sono Ma è una cosa bellissima Ma ci sono tantissime cose Allora lì forse Non c'è un cat Qui c'è un oggetto Da prendere E forse una micro esplorazione Da fare Qui da dove siamo partiti Facciamo l'oggetto Da prendere La micro esplorazione Da fare Aiuto Scheggia di moltissime figaggini Facciamo le cose per bene Madonna Quanto si muore nei giochi di mia zacchia A fare ste gag Ragazzi Aiuto Sono vivo Sono vivo Cos'è sto posto Però è che vorrei portare Andiamo Solo un'occhiata Solo È un fabbro È un amico fabbro E qui si cammina E si ritorna Alla maison Ok ok Ci stava ad essere esplorativi Ci stava ad essere esplorativi Ci stava ad essere esplorativi Figata il fabbro E purtroppo Le live di Final Fantasy 7 Le ho salvate Perché non è mai diventata una serie Ci sta il fabbro Che sicuramente Ci fa delle bazze Ma adesso Andiamo A zappare La te Però c'è tutto un mondo Lì sotto Ragazzi Io devo portare a casa le anime Abbiate pazienza Prima portiamo a casa le anime Tutto il resto È decisamente secondario Rispetto a questo Ok È qua Portiamo a casa le anime Anche perché secondo me Abbiamo tante cosine in ballo Anche se In realtà Spenderle tutte Potrebbe non essere intelligente Se quello è un fabbro Utile e importante Ma noi abbiamo le anime Da spaccare Quindi Con le anime Sfuse E non sono abbastanza Spacco le anime Spacco le anime Non importa Urche è bastata questa attenzione Abbiamo un livello Vitalità Che vitalità Ha molto a che vedere Anche con difesa Peso degli oggetti Vabbè frega Potendoli inviare al deposito È una cosa che non ci frega Resistenza Il peso attivo È tanta roba È oltre alla stamina In sé È la forza Non sembra proprio Il suo livello Del millennio Ma sapete cosa sto per fare Vero L'ho fatto Avete finito Forse Forse Ho finito Ah ma sei più scarso Comunque Strano che questi cosi Siano migliori E invece lo sono Però migliore Difesa dal fuoco Quindi in realtà In quell'area lì Io potrei indossare questi Guadagno 47 diviso 2 Quindi mi fa 23 e mezzo Eh ma andò Andò cazzo Vado Eh non vado Da nessunissima parte Questa è più scarsa Eh Ehm Qui cosa ci si mette? L'elmo 27 e 4 PD Niente In realtà nulla Totale nisba Totale nisba Però Sta protezione dal fuoco Me la tengo Perché i tizi Con il tizzone Erano Oddio Tanto è Veramente non cambia un cazzo A questo punto Noi abbiamo tante anime Da spaccare Quindi torniamo Dal fabbro Vediamo cosa succede Vediamo cosa succede Bello Bello Bellissimo Bellissimo Ti attende bellissimo Sarà forse il paesaggio Non ti ho mai visto Da queste parti Fatti guardare Dunque la voce La voce è bassissima Rispetto agli effetti Ripare equipaggiamento Vabbè Siamo qui per le cose serie Spada lunga Tira pugni di ferro Devo spaccare Però Scheggia di pietra dura Possiamo Pimpare la spada lunga È molto danneggiata No 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 Adesso vedrai che Arrivano le buzz Anche per te Diciamo un passo alla volta Vi giuro che perdere anime È terribile Bene Per farla più 4 Ce la facciamo Ah Sono tutte queste buzz Qui Come funziona Rispetto a Dark Souls Come funziona Rispetto a Dark Souls Ci Ci devo C'è Sono meglio Queste varianti O prima la portiamo a più 10 E poi si pensa alle varianti Se lo sapete E dove stanno le info Qua Questo diventa più destro Questo è l'attacco da fuoco Si aggiunge Contundente più sulla forza Come funziona I bonus Perché ad esempio 88 più 21 Con un C alla forza Non è male E questi sono 91 più 91 O come al solito Il fuoco toglie l'influsso di forza e destrezza Esatto Però comunque si sommano Contundente diventa pura forza Sì 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 Ma a dire il vero preferisco la più 4 Certo è vero che Non mi focalizzo su Ah comunque è un passo indietro Cioè in ogni caso Ho da fare la contundente più 1 Eh allora mi conviene la contundente più 1 Mi conviene la contundente Pi 1 Perché questa è una più 1 E ha già un 88 Che però essendo C È un più 21 Però è 88 E dopo io dovrei continuare a pimparlo A parte che non posso A parte che non posso Perché non ho la pietra grigia Eh però non posso neanche farla in realtà Eh non ce le ho i materiali Per fare la contundente Farla del drago Per avere il fuoco Dovrei sapere se si sommano Se si sommano È enorme Salvo uno che resiste al fuoco Ovviamente Ah non si sommano Ok Eh sì sì Sconsiglio Sconsiglio sì Concordo Concordo Di qualità Va sulla destra Questo però non ci interesserà mai Allora il derby è fra la contundente Che però non posso fare E quella che posso fare Vince quella che posso fare Non è abbastanza anima per il momento Finito Allora Magari un giorno Pimperemo un po' destrezza Non lo so Magari ci penseremo un'altra volta Però Al momento posso pimparmi E lo faccio Eh lo faccio per favore Non ho tantissime anime Quindi Facciamo un pimpino E tanti saluti Magari torneremo Con tantissime pietre E anime Un bel giorno Facciamo la contundente Più dieci Proprio dovesse essere Ma al momento No Al momento facciamo la spada lunga Più quattro E Tanti saluti Dio possiamo fare anche la più cinque Perché no Finito Finito Ti ho dato un sacco di buzz Sì contento Per piacere grazie Qua non si interagisce Ora facciamo più male Questo è poco ma sicuro Sì sì ho visto che la forza d'estrei Da quello dicevo proprio che Sì la vista è bella Anima di eroe famoso Ottimo Per chi aiutano Ma prova a fondo Cos'è una presa per il culo Perché la gente si butta Quanti passi avanti fa con la fome Voglio ridere per quelli che ci prendono per il culo Ebbè ma grazie Sono tutte delle trollate Sì sì riparti da più uno Questo l'ho capito Ma ripeto Oramai il nostro percorso è questo Poi se saremo straricchi Magari con una Tanto una cazzo di spada lunga Base ne troveremo Spero O ne venderanno Penso Quindi Facciamo sempre in tempo Se vogliamo Dove cazzo vado Poi non lo so A questo punto Abbiamo fatto un bel pimp Quello che dobbiamo fare abbiamo fatto Andiamo Ah qui c'erano parecchi stranzilli però Li schippo Li schippo nel frega più totale Eh scusa 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 Ah 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 Pensavo boss fight No 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 Ehi Ehi vai a zappare No No Che miseria Porca miseria Che non volevo Scusate 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 E che volevo fare questo Aspetta fammelo fare No 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 Ma vai a zappare Per un niente Non sei morto Ad un colpo Porca miseria Che non volevo sprecare Accidenti Adesso torniamo indietro Ho schippato Roba Eh ovviamente Eh la dovevo fare più sei Per avere il gusto Di ammazzare in un colpo solo Ma Tutto c'è un limite Triggerone generale Siete seri? Mi hanno cambiato un cazzo infatti Vabbè Qua ora dovremmo essere No Mamma Bella Ma non facciamo gli avidi Che ci frega Di ammazzare lui Visioni di amici Ma io non lo so Ma Che ghe ghe Allora Con grande serenità Adesso Tempo di rotolamento Eh sì Questa è proprio Una bella idea Eh quella è una trappola Andiamo a bestemmiare Ragazzi Dove si cade? Scatto Devo correre Dici? Onesto Ci stava Come anima Di solo Vai in via Deposito Clava grande Qui non c'era un oggetto In realtà In realtà siamo Fottutissimi Cioè Da un certo punto di vista Bene Ma abbiamo un ritorno Alla casa base Atroce adesso Di fronte a noi Ma qui non c'era Un oggetto speciale Esattamente qua sopra Che mi era sembrato Di vedere L'abbiamo fatto Per quelle anime Beh ci stava E non c'era una bazza Vi giuro Mi era sembrato Vedere una bazza Qui sopra Non c'è un Chez Io non ci posso credere Che siamo di nuovo qua Ragazzi Si corra Si corra No vabbè raga Siamo veramente qui 19-8 Non mi ricordo neanche Come cazzo è dopo Ah ma siamo qua Ah ma 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 io non avevo Minimamente capito niente Mappa pazzesca In realtà Fai meno il figo Fai meno il figo Fai meno il figo Vazzo Urca Ehi 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 Calmi 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 Che sto veramente Perdendo tempo Oh Buono 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 Tu non eri mai morto Infatti pensai Cosa serve uccidere lui lì A stare più sereni adesso Serviva Ok E tu cosa facevi qui Mi sta raccontando di un segreto Copri i capi Dark Souls Ma in realtà Col senno di poi Va bene Andiamo Allora Ci affacciamo Qui Fummo avidi di anime Facemmo bene Rotolammo Sbloccando salita interessante Da esplorare Ma Qui vedo che gente Combatte Secondo me il boss Sarà un super lucertolone Stile Soch Pronto ed attacca God Ecco Se la prende con il suppellettile Non sopevo avessi questo attacco Eppure questo hai Non vanno sottovalutati Triggeriamo qualcun altro Oh aiuto aiuto Vieni 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 PD sono qui Ma allora Ho sbagliato Uh culo 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 Ok Vorrei triggerare l'ultimo Se si riesce Triggerati Urca No Giusto per essere poi diretti Senza rotture di balle in mezzo Sono qui Adesso ti sarai Reso conto Che sono qui Li ha fatti un po' più deboli quelli Urca No ho sbagliato di nuovo Stesso errore di prima Ok Qui abbiamo ripulito Schegge Schegge Quella rotolata segreta di prima Dobbiamo farla Darle un seguito L'oggetto sopra la capacità Scudo d'acciaio Poteva servire Va bene Il deposito godrà di questo oggetto Qui dobbiamo caderci da chissà dove Questo è l'andare avanti Presumibilmente Peso 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 Ma Noi facciamo quella cosa là Chissà se si possono fare ste gag Io non mi fido di demons Andiamo qua Facciamogli imprudenti Strano Strano per essere i detacca Veramente C'è nessuno Erba crescente per due Caccia la via Là si va là Molto strano Qua si cade dove Dove eravamo prima Qua abbiamo un camino Ok Molto strano Adesso c'è l'oggetto da prendere Ma Mi affaccio Qua si cade Sai queste cose possono sempre essere dei suggerimenti Mi ricordo la fortezza di Sen Lì sembra quasi potersi camminare Ma non diciamo stronzate Ok Andiamo a prenderla Probabilmente ci vuole un cacchio di salto Com'è il salto? È così Corsa Arriverò correndo Correrò Onesto Anima di eroi sconosciuto Sconosciuto Non è neanche la più grossa Bene Abbiamo fatto quella digressione Che ci ha portato qui Molto molto bene A questo punto Questa è la direzione da prendere E non ci sono falò Ma si vede la luce del sole Scusate Devo capire Probabilmente sì Va bene Andiamo avanti Un mistero Cut content Ma ci sono queste lucertole Che sembra che russino Come dei maialini Tipo La sotto Conosciamo Quando avremo i moonboot Della lava Ci andremo Grazie Vediamo come è morto sto tipo No Come è morto questo Ma fatto combattere qui Che non c'è nessuno Lì ci sono oggetti Intanto Lì tutto un altro mondo Ma come cacchio si fa a esplorare Mi cago Mi cago Tu eri soltanto una cosa che pensa La vai a zappare Non è il momento di leggermi se Ma vai a zappare Cascamo Ma com'è che a volte Mi brucio E a volte no E' il criterio Il cadavere brucia Pesissimo Oh no 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 Ho sbagliato Sbagliato Ho sbagliato Ho sbagliato Cazzo Ho sprecato un'erba Di quelle buone Cani Un cane buggato Cane buggato Può rimanere buggato Altri cinque secondi Grazie Stai buono Stai buono Sentire abbaiare Nei giochi di The Attack È veramente La cosa più Più brutta Che possa succedere Casca E' t'ho detto Di Quasi morto Porca miseria Davvero È solo un giretto Intorno alla torretta Chissà quanti segreti Che sto schippando Ragazzi Qua ci sarà sicuramente Una porta invisibile Tipo Dai Non ci crede nessuno Queste sono belle Comunque queste cose Lasciate qua Sembrano dei crostini Di quelli Di quelli Sembrano pane Sembrano fatte di pane Una volta morte Va bene Proseguo Proseguo Fottiti Fottiti Cosa cazzo Cosa cazzo è stato? Cos'è stato? Ma si sono compenetrati Da sotto Ma tu dimmi Sono qui ragazzi Io non so cosa dire Ma tu dimmi Ma tu dimmi Finché posso Provo a stare un po' fullatino Qua c'è l'oggetto Lloyd Lloyd Che era lo zio Sì 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 Beh è il suo zio Cugino Aspettate che mi affaccio Perché mi sembra di stare schippando cose Scusate Ho proprio la sensazione Di stare schippando della roba E sicuramente è così Eh vabbè Bello però Bello Bello Proseguiamo Ma quanto è grande Quest'area Mio Dio È disorientante Da matti La prima volta Che l'affronti Erba mezza Cacciala via Nemici che ho schippato prima Ma allora che bazza è Scusa Ma sto tornando Dove ero prima Ma non è possibile No 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 ovviamente no Se non sarei salito qui Che cazzo dico Fammi uscire di qui Ti capisco Bezzo Lì c'è qualcosa E dopo raccogliamo Adesso qua abbiamo dei Uff In the face Proprio me lo sono preso Ma PD Ma non ti spacco Oh e allora Ma non vedo Ma che cazzo Sto tranquillo No non sto tranquillo Ma quanti danni Merda 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 Bella Bella per il lock Che mi rivela I nemici Bella anche per L'affondo Che Non vedo un cazzo Ma vabbè Dai cosa vogliamo Stupirci Vai Fai la bazza Non vedo Normale Ordinare amministrazione Praticamente Avete presente Quel bonus Che è un malus Di super mario kart Dell'inchiostro A mille pietre Che non ti fa vedere Quella è lì Detac Arima era sconosciuto Ok Ok Si prosegue Sedie dovrebbero prima passare di qui Questo è forse il messaggio più criptico Che abbia mai ricevuto Nella mia storia di videogiocatore Dovrebbero passare delle sedie Io ti dico ok Ruota la manovella Fammi un'animazione Per farmi capire Che cosa ho appena fatto Grazie Qual è la bazza Qual è la bazza Fammi capire Qualche cosa ho fatto Effettivamente Altro che Moonboot della lava Ci siamo capiti Ci siamo capiti Ci siamo capiti E proseguendo Ne approfitteremo Perché Idetaka Sa quello che fa Vero Vero Cioè se io mi butto Giù di qua È una cosa intelligente O sono un imbecille Mi odio Mi sembra di essere un imbecille Probabilmente era la cosa da fare Probabilmente era la cosa da fare Semplicemente Andare di là Però devo vedere una cosa Prima Orca miseria Era la cosa da fare Vero? Ditemelo se era la cosa da fare Però mi sembrava Proprio la zona Dove siamo già stati Eccetera Vi si è tutto asciugato Comunque Sì era la cosa da fare Grazie guys Grazie mille Così non stiamo a perdere tempo In un giro infinito Le sedie Eh ci vorrebbero delle sedie In questo posto Ma oh Cioè poi Non è che lo puoi negare È vero Non ne abbiamo viste tante Però non so Tra tutte le osservazioni Che farei Attenzione Battaglione Se sì Non mollare Ma perché se sì Se sì Cosa Se sì Non mollare Se sì Non mollare No noi qua Questa zona la conosciamo A PD Ma no Ci assomiglia solo Stiamo tranquilli Dio qua tutto si assomiglia Allora Altro che Bloodborne Allora Comunque salgo Poi si prosegue Ma questa zona La conosciamo benissimo Ma come Come Cani che abbaiono Brutta gag Certo che C'è dei cani qui sotto Quindi io proseguo Non mollo Non mollo E proseguo Sei delirante Ma vai A zappa Ma perché consentono Di mettere Queste cose A tempo di tiro Invece per le lucertole Sentite Io invece Vado così Ma io vorrei andare Vorrei andare alla pozza Vorrei andare alla pozza Che si è prosciugata Capite Qui siamo già stati Ma ragazzi Io voglio andare alla pozza Cosa c'è qui sotto Cazzo Sono totalmente disorientato Sto posto è gigantesco Ragazzi Voi magari lo conoscete a memoria Non l'ho mai visto prima Vado avanti Dai ci credo Allora ci credo Vedo della fiducia Bene vado avanti Anche senza risposte Bisogna comunque proseguire Ha funzionato Grazie È la pozza Oh No cosa 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 Perché sono qui Ma raga Dove cazzo devo andare È l'inizio Sì è l'inizio Ma perché sono qui Perché il gioco Abbiamo andato qui Raga Ma allora salgo Ma salire Io non mi ricordo Non mi ricordo una minchia Ragazzi è ovvio Ma io non mi ricordo Una fa Ehi Abbiamo vinto Per dell'erba Guarda da questa parte Sì Novi grazie Cosa Da questa parte È molto relativo Comunque Prezioso Anello Ma va bene Ok Sprecate dei messaggi Per delle cose Che sono palesi Ma e quindi Ma dove vai Questo Anello della resistenza Al veleno Il fatto che esista E che sia prezioso Mi fa Mi fa veramente Pensare male Ma per fortuna Questa non è una blind Completa Non è una serie E quindi Io appena vedo il veleno Ragazzi Droppo Ve lo dico Ma qual è la bazza Ah di qua io prima Non potevo salire Questa è la bazza Però potevo scendere A un certo punto Mi parve No raga I cesti Abbiamo detto che non si sale Sui cesti No raga Ma ci siamo persi Veramente Ma io non so più Cosa cazzo Quest'area è nuova Io qui non sono mai stato Io qui non sono mai stato Ragazzi Quest'area è nuova E infatti C'è una nebbia Combattiamo usando solo Attacco perforante Beh Devo dire che bello male Lo stiamo già facendo Comunque Probabilmente Non è un consiglio folle C'è una nebbia Ma prima di una nebbia C'è qualcuno Voglio farmi E farvi Una domanda Adesso c'è un boss Io muoio Oddio Ma tornare qui È il delirio Assoluto O sbaglio No vabbè Passo dal tizio È un cazzo di delirio È un cazzo di delirio Ragazzi Cioè È allucinante Poi tornarci Sì L'ascensore Millequattro anime Vabbè Non tanto Sì sì Ho capito Cosa stai per fare Vez Ma dai Non so neanche Non me lo immaginavo Fallo Minchia Ma vorrei che colpissi Anche questi Scusa Eh no Cazzo Sbagliato Stolto Meraviglio Che tu non abbia Degli amici Qui Dico nella vita In generale No Sono un pollo Eh sei in una posizione Fottuta Sai Soprattutto perché Non ti muovi Hai fatto il furbo Lo so Gambali Dell'ufficiale Erba piena Beh Porca miseria Speranza Ma anche no Sto bene come sto Porca vacca Interessante questa cosa Pietro ha gli occhi effimeri Cazzo raga Ok Però questa mi sembra Una sekiriana Salita a un boss Boh Però Com'è sto boss E' tutta una gimmick Io ho visto i video Di non mi ricordo chi Che faceva vedere Sto boss E praticamente Tu devi correre Avanti Indietro Cioè Non si combatte Normalmente Devi fare la corsa Nel tunnel Madonna Ma perché Demon's Raga Forse Veramente Non voglio dire nulla Ah Attenzione che le cose Piovono dal cielo Ehi L'ho triggerato Con un'ombra Ma però forse Non è subito Forse il gioco Inizia a cambiare Un po' Diciamo Il suo tema Per introdurti Al fatto che Alla fine Di tutto sto Sbattimento Ci sarà il ragno Guardate Figata Di nuovo qui Ma che cazzo Dici di nuovo qui Non mi dire così Stai buono Ma come di nuovo Che senso Di nuovo qui Una volta che Mi sembra di essere Un posto nuovo Siamo sopra I posti vecchi Ok Come sei morto tu È bellissima Sta cosa in realtà Pensate che non l'ho mai usata Nelle mie blind precedenti Ed è una morte Se c'è il fantasmino Giusto? Che dite? Stiamo attentini? Io dico di sì Anche perché c'è una leva Che invece vogliamo Molto prepotentemente Raggiungere vivi Ci piace anche l'oggettino Madonna che inutilità Grazie L'oggetto supra Cris Tina d'Avena Ok Essendo che noi Siamo Combattiamo in nome di Dio Questo potrebbe essere Il Cris di Cristo Scheggia di Pietraragno Wink wink Come resta immobile Porca trota È una trappola Aspettate Chissà se si riesce A leggere il messaggio troll Veterani Veterani No Dio 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 Leggo la chat Mentre mi muo Non c'è una bazza Non c'è una bazza Signori Allora Noi abbiamo visto Tutti cadere Arrivando da qui Magari l'asse Anzi Se Se Quello È quello che è In teoria L'asse centrale Non crolla È un cazzo di ascensore È un cazzo di ascensore Ho Bisinterpretato Quei fantasmi No ma voi scherzate No ma stiamo scherzando No ragazzi Ma stiamo scherzando Ma tra l'altro Sapete che io Ci arrivai qui Nel 2009 Ma non mi ricordo Adesso mi ricordo Il tunnel con il ragno Cioè Lo affrontai All'epoca E non lo battei mai Secondo me Ma tutto quello Che c'era in mezzo Io non me lo ricordavo Ma chissà come cazzo Comunque sia Cioè Non c'è neanche Una shortcut Non c'è neanche Una shortcut Eh ovviamente Ma vi rendete conto Della strada Della strada Che abbiamo fatto Per arrivare qua Ma la dovremo rifare Che ora sono No ma ragazzi Ma è un fottuto incubo Non so come si batte Sto nemico Cioè ho visto Che correvano Nel tunnel Ma non la so La gag So che è un Cazzo di nemico No No Ma cosa cazzo Devo fare Fottiti No non voglio morire Sono morto Ma fallo Brutto Stronzo Ah posso rotolare Che cretino È ovvio Ma Cristo Boh Carca miseria Un danno L'ho fatto Ora lui sputa Un fiume di lava Ma non faceva un fiume Io mi ricordavo Sta gag Del fiume Di lava Ecco Ah non posso rotolare Cazzo Non l'avevo capito Non l'avevo capito E me lo ricordavo bene Allora Si ferma Si ferma Non può arrivare Fino in fondo No Merda Ogni volta No Ma dai Fatti colpire Cosa cazzo è successo Zio Non si vede un cazzo Ma non si vede mai un cazzo Ma non è possibile Che non si veda mai un cazzo Ma non si vede Ma è possibile Che non si veda mai un cazzo Dio Cristo Sì ma non si vedeva niente Niente di niente di niente Va dal Nexus Mi sono rotto il bagno Va dal Nexus Ho delle anime da spaccare Per questo momento Dov'è la tizia? Porca Di quella vacca Allora Sono qui Porca Poi. questa qua la ripongo tanto se ho deciso di non usarla allora dove eri qua? stai buono? che due panni vediamo cosa riusciamo a fare grazie a Freddy che regala a Silvio mi dispiace River non è tempo che tu vada così scalza mi dispiace di nuovo cosa scudo è bello non ha una descrizione bella forte perché mi è venuta un'idea ragazzi di cui vi volevo rendere partecipi per variare un po' perché mi ha un po' stremato quell'area e quindi voglio andare qua faccio qualche combattimento in più del necessario ci siamo pimpati bene 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 giusto perché comunque se abbiamo bisogno di anime e voglio fare una cosa anzi sono due cose che vorrei fare dobbiamo arrivare a 2008 no? vabbè è lunghissima però non è lunghissima se affrontiamo chi dico io ho una mezza idea di fare una pazzia di andare dal tizio con gli occhi rossi secondo me ora lo gestiamo cioè l'abbiamo già battuto una volta però sono sempre tante anime bene pensavo di fare un tris avevo fatto un bis erbette 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 che schifo non fanno mai proprio schifo non ci fanno queste erbette non serve più dare doppi colpi lo faccio per riposare un attimo la mente su qualcosa di diverso da quella maledetta forgia perché mi ha un attimo assorbito e sono talmente in denial rispetto alla strada che devo fare per tornare dal ragno che preferisco non pensarci in questo momento sono in totale denial mi dispiace adesso mi ripiglio e adesso facciamo sfide nuove sfide nuove per pimpare il personaggio è veramente assurdo tutta quella strada io non ho capito la shortcut non ho capito esattamente che cazzo devo fare mi sembra un delirio mi sembra un totale delirio tornare là siamo più grossi dell'ultima volta che ci siamo visti anzi siamo ancora così e ci cureremo con la magia chissà se riesco a tirar giù il tizio rosso tanto tu vai giù con un colpo un po' Avel eh questo scudo non i gambali i gambali non fanno molto Avel considerando che non li ho però lo scudo fa un pochino Avel dai nello spirito nella filosofia è molto bello sto scudo veramente figo sì 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 è che voglio rimanere fast che poi chissà se poi tutta questa mia fissa sull'essere fast magari è una sciocchezza magari vado mid e sto benissimo e si gioca benissimo ho sbagliato tasto incredibile sono già atteso bastardo eh ma con sto scudo lo reggo eh ah con sto scudo non mi stanna più e beh allora yes erba piena Godola avevamo già ravanato ci voleva per il morale facciamo i pazzi facciamo i pazzi ma tanto per le poche anime che mi danno ci voleva per il morale questo scudo questo scudo è molto importante ho notato una differenza incredibile lui mi stannava tutte le volte se separavo con lo scudo era ingestibile adesso ho 4800 anime che purtroppo non sono due livelli però sono comunque meglio che il proverbiale calci in culo e quindi all'insegna del proverbiale calci in culo andiamo al nexus non pensiate che io sia così folle andiamo al nexus facciamo un livellino e potrei anche prendere in considerazione l'arma è già più 5 potrei anche prendere in considerazione l'idea di dove sei baby? no no nascondino fai ah beh qua poi c'è altra gente in realtà credo ah è questo che mi dice che non sono abbastanza intelligente per vivere cosa vuoi? brutto non so che farmi questo sarà per le magie quelle che l'altro definiva demoniache è questa scritta? non è il momento di leggere i messaggi vai a zappare invece si al nexus sarebbe proprio il momento giusto comunque dove sei? eccoti qua buonissima mamma mia ma cosa hanno cosa hanno creato? allora 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 difese punti ferita ha senso stamina peso attivo è tanta roba la forza è tanta roba faccio la forza a sto giro faccio la forza le prossime sono 3000 abbiamo finito vado di forza ragazzi è anche un RPG voi dovete consentirmi di fare una cosa rifacciamo il rosso per fare anche resistenza o proviamo il gigantone merda no facciamo il rosso comunque facciamo comunque il rosso facciamo il rosso per fare un altro livello e non girare con troppe anime perché mi darebbe l'ansia dopo di che rosso poi gigantone esattamente si che tra il rosso ci è andata bene facciamo sempre e poi schiattarci qua teniamo questa a portata rosso gigantone si si ah e demons mi sa che bisogna un po' affrontarlo così con tanta santa pazienza che poi sia santa lo scopriremo se lo sia o meno bene siamo grossi per loro per loro potrei anche fare qualche scheletrino nel primo affaccio su quel livello là forse in realtà adesso quell'affaccio potrei anche fare qualcosa di più che affacciarmi a ben vedere beh è carina sta cosa che ti affacci su tanti ma d'altra parte non è non è solo demons allora perché il gigantone lo voglio fare ma l'idea di lasciarci duemila pass anime tra le altre cose un'idea che ho non è che con questo scudo riesco a parare senza essere stannato il suo attacco così gli posso stare sempre fra le gambe perché questa è l'idea di river bravo bravo c'è un drop no c'è un drop no lui è la mia nemesi madonna puoi schiattare grazie bene 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 teniamo fuori la spada che è il caso non facciamo cazzate per piacere scambio tremendo mamma mia mamma mia no 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 porca miseria porca miseria è vero che gli facciamo i danni però va rispettato ma che cazzo fa ma che cazzo ma pd ma tira ste spadate no posso fare solo l'affondo allora se no mi dà questa abbracciata inutile bisogna rispettarlo il ragazzo rosso altro che e adesso ho fretta siamo attenti a non fare la cazzata di crepare nel tragitto non siamo lontani dal farla sta cazzata temo ok ragazzi su non deludetemi ma infatti è da rispettare ancora lo si capisce dal fatto che ci dà ancora un più che rispettabile a montare di anime e beh è una proporzione se le anime che ci dà fossero troppo poche troppo facile sarebbe abbatterle passavo per cadere nel vuoto e bestemmiare veramente tutti gli dai di boletaria a quanto pare non sono così abbondanti come all'ordran ecco povera spada frangimaglia bene tanto ormai abbiamo già segnato la nostra strada non è vero non è assolutamente segnata però la nostra spada lunga più 5 inizia a piacerci allora ci sei tu che vai rispettato anche te io sto facendo il tirchio sulle cure ops ok sto facendo il tirchio sulle cure perché tra un po' voglio fare la magia e così fare tutte queste escursioni in un bilancio totalmente positivo da un punto di vista delle erbette di fatto stiamo anche farmando le erbette che schifo non fa va beh che qua ci dà le erbe no però il tizio che aveva appena ucciso invece ci dava quelle mezze dai su please ah pd ma tu sei sempre grosso merda no mi rifiuto di usare un'erbetta no ci muoio ci muoio uso la magia non voglio usare le erbette è inaccettabile ma vai a zappare ma cosa sei mamma mia più grosso del tizio con gli occhi rossi in proporzione e ora le erbette le uso due va bene per fortuna siamo morti qua è sempre un buon idea tornare indietro siamo a 3000 e passa anime una bella preda per lo stronzo ah ci ho sperato venimo qua ora morire qua è un'idea peggiore ha detto shield merda mi ha colpito la grande però scambiare con lui non è una gran idea cosa dite bastardo quante ne hai merda grazie Freddy grazie Freddy un buon bottino un buon bottino sì un buon bottino sto pensando si potrebbe scendere di qua però dai 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 ce lo facciamo andare bene me ne rimarranno comunque 2000 se è quello che sto pensando anch'io eh sì eh vabbè lo dobbiamo accettare a un certo punto lo dobbiamo accettare rosico forse potremmo fare qualche scheletro adesso vediamo a quanto andiamo esattamente magari ci affacciamo un po' dagli scheletri nel 3.1 3 barra 1 insomma il livello 3 mondo 3 livello 1 però intanto mettiamo un livellino in saccoccia è un livello era 2008 eh sì siamo proprio stronzi come quantità non ci ho neanche provato Gabri abbiamo fatto due volte il tizio con gli occhi rossi 2 a 1 perché una volta ci ha ammazzati allora prima abbiamo preso la forza e ora prenderei la resistenza il prossimo è 3003 che la forza che la forza sia con te va bene abbiamo finito abbiamo finito qual è l'arcipietra degli scheletri è questa l'arcipietra degli scheletri giusto esatto bella log sei apparsa proprio nel momento in cui pippavo la stamina forse non è un caso allora no ma pd ma vai a zappar oh questo è grosso ancora quel colpo lì ancora ancora si fa sentire usiamo un'erbetta dai affacciamoci un po' non troppo però un pochino ci affacciamo sappiamo che quando scende uno già triggerato e noi per immensa prudenza che non so da dove venga lo vogliamo affrontare qui proprio una botta di prudenza beh è la via del capezzo anche lui si stanna però con il nostro scudo e muo in realtà due affondi e va giù quello che voglio fare adesso è quello che non ho ancora fatto andare oltre allora lassù ce n'è uno ma l'altra volta me l'ha perso che fossero due per questo mi ero molto preoccupato oh oh ma eh eh avevo fatto bene a preoccuparmi ok caro ragazzo seguimi mi stai seguendo alla grandissima porca miseria ok ok possiamo pensare all'arciere siamo 2008 dobbiamo arrivare diciamo 3004 diciamo 3004 ma ho visto una manta volante qui ma tu che cacchio fai scusi ah sei proprio un mono arciere no 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 cosa dicevamo sul non volerne affrontare due no abbastanza stamina per vivere no ok qui però sono recuperabili le anime qua le recuperiamo qua le recuperiamo qua le recuperiamo eh ho fatto forse male a voler andare indietro qui le anime si recuperano dove sono? non le vedo dovrebbero essere lì ho sbagliato ragazza mia eh potrei usare la magia che vabbè pazienza dove sono le anime? io sono morto qui dove sono le anime? amici? ah lì ok vabbè un po' spostate in modo scorretto ma va bene vieni qui che dopo le anime voglio pensarci con calma è finito il tempo delle schivate fighe in avanti ok grazie mille Freddy non so come ringraziarti davvero anime recuperate e io voglio osare ancora può venire giù l'altro? solo l'altro per piacere? solo l'altro? lo so sto facendo la cazzata vero? sto facendo la cazzata mi sento stanno arrivando voglio morire qui è da solo? c'è andata così di lusso? ah sei forse più grosso forse ti ho colpito peggio ok fammi capire 4.500 guardatelo là con gli occhi rossi merda quello fa paura 4.500 4.500 andiamole a monetizzare va là quello con gli occhi rossi fa paura fa davvero paura siamo sempre un po' stronzi però sentite adesso pimpiamo 49 facciamo i bravi ok grazie Gabri che regala l'abbonamento a Foskov a questo punto facciamo il gigantone chi se ne frega di queste mille anime ci proviamo l'originale qualcosina giocai ma poca roba tipo il gigantone lo battei ma non mi ricordo una fava a ragno c'era arrivato dove mi sono fermato oggi ma non mi ricordavo niente del tragitto ma proprio niente sinceramente e basta mi ricordo che dagli scheletri morivo subito non ne ho mai ammazzato uno per dire ma 2009 ragazzi nessuno sapeva niente di questi giochi nessuno un impatto che comunque è abbastanza impossibile da descrivere ve lo dico sinceramente cioè trovarsi un gioco così è un what abbastanza irripetibile saltino indietro di ruolo ci stava però da un punto di vista invece del darsi una bella mossa ho sentito del tifo foskov grazie mille grazie 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 molto gentile ti ringrazio bene 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 cerchiamo di adesso c'è la parte molto rumorosa adesso il volume è un po' più basso e questo mi fa molto piacere prima gli arcieri ah ce lo ricordiamo ah è più avanti è più avanti è più avanti dovevo stare un pochino più in avanti ah ma non è ancora presto per cantare e tu come diavolo sei sopravvissuto sei sopravvissuto poco perché ora sei morto però cavolo complimenti questo scudo è un'altra cosa questo scudo è un'altra cosa vediamo ancora questo poi pensiamo a cosa usare per curarci ma tu dimmi D1 intanto lui fa questo vabbè dopodiché beh qui c'è un droppino dovrebbe essere safe prossimo giro gli devo far fare un altro giro 19-8 saltino adesso si ride meno ho avuto paura di avanzare troppo adesso si ride meno non voglio bestemmiare non voglio non voglio diventare spiacevole rimaniamo persone per bene no no Simon no ho sbagliato tutta colpa mia ho sbagliato tutto ho sbagliato Simon River 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 ho proprio sbagliato ho sbagliato ho sbagliato ho sbagliato sono stato inutilmente avido 19-8 va quando ti colpisce uno di questi è a cattivo presagio va bene così va bene avete visto quando siamo più forti in realtà rispetto ai tentativi precedenti quindi non ci si lamenti va benissimo River quando vuoi saltino 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 River ho una mezza ho una mezza idea mi è venuta una mezza idea cambiare equipment prima del gigantone si potrebbe fare se non riuscissimo ad ammazzare la gente prima del gigantone ma noi ce l'abbiamo la roba con noi ho lasciato tutto là ho lasciato ho lasciato ho lasciato i gambali veri eh vabbè vabbè un'altra volta viverna viverna l'ho fatto ho ravanato un'erba crescente per uno grazie Juan de Dios Martinez grazie del supporto beh vuoi proprio che usi le erbette ora ci penso vediamo prima se per caso prendo dei danni stupidi da sto tipo allora ok forse sono partito un po' tardi forse sono partito leggermente tardi è più grosso è più grosso del suo amico del suo simile ma noi siamo diventati grossi anche noi anime recuperate non me ne ero neanche accorto ok ho voluto risparmiare un'erbetta ragazzi ah invece questo due affondi e ci saluta ok siamo più grossi siamo più grossi eh guardate l'ombra di quel tizio non voglio non voglio non bisogna allora la cosa fondamentale ragazzi è il sorriso non bisogna perdere il buon umore non bisogna perdere il buon umore è un gio io non so come fanno quelli che giocano con freddezza e distacco sì ecco il moveset sì ecco qua le animazioni qui c'è un frame qui c'è un hitbox io vorrei giocare come sti tizi porca di quella porca 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 non mi ricordo non mi ricordo non mi ricordo dove è la scala dove è la scala no è di là ho ricattato me la ricordavo qui aiuto andate a zappare voi e i detacca sempre si ha lodato ma i detacca lo lodo volentieri non durante le boss fight però non mentre gioco i suoi giochi in pausa nelle pause lo lodo adesso è morto dieci volte no sdlocca mi il tizio poi bisogna pensare a una strategia bisogna stare sotto le gambe io spero che sia fattibile che cosa volete cioè percepisco che non è un boss particolarmente for cioè non è complicato è abbastanza banale ma picchia sembra veramente gli esecutori testamentari di questi tizi allora hai guardato il paesaggio ok ce ne sono degli altri non me lo ricordo questo non era un buon posto per esporsi non voglio veramente passare la mia giornata a bestemmiare sì ma non morerai mai basta sto colpo river ma mi stavo parando levalo ho capito ho capito ho capito ho capito ragazzi ho capito devo cambiare caviglia scusatemi ho capito adesso non l'avevo capito vi chiedo scusa eh ma ora come cazzo lo colpisco non vedo un Cristo non vedo un Cristo ma Dio ma non vedo un cazzo porca broia vaffanculo i detacca di merda come colpisco le altre parti del corpo in nomine dei come Christian De Sica le colpisco le altre parti questo era un colpire le altre parti stavo colpendo il culo bevi stronzo ma è orripilante cioè lui è bellissimo la boss fight fa schifo mi dispiace dirlo ragazzi ma non è possibile con questa telecamera non è possibile io non vedo un cazzo ma io non vedo una fama perché la telecamera è attaccata a terra Christian De Sica tiratela su sta cazzo di camera ma veramente non si capisce mai una fama nooo stavo tenendo su lo scudo che cretino non vedo non sto neanche a dire cosa vedo però non vedo niente ma dio rialzati vaffanculo porca non ho neanche approfittato vai a zappare la terra bevo vaffanculo bevo mangio fumo cazzo si deve capire in ste boss fight di merda è una cagata questa boss fight è facilissima cazzo dio mamma river trofeo vai a zappare era la testa era la testa era la testa era la testa quadrello non fatemi dire niente su questi quadrelli anima demole di ferro no sapete il lock serviva perché io avevo sempre lo scudo verso di lui e quindi io in realtà mi muovevo sotto le sue gambe lui ogni tanto faceva la cosa ma io ero sicuro di essere sempre imparata verso la sua mossa magari uno veramente pro non ne ha bisogno ma io me la sono sentita così si sente di nuovo la viverna ok 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 qua l'area è vuota e si prosegue dalla nebbia stavo pensando se ci sono cose che vogliamo osservare e capire questo ombra almeno sta live abbiamo messo segno questo dovremmo affrontare il ragno però abbiamo 11.000 anime ecco cosa voglio capire 11.000 anime nexus istantaneamente ah ma io stavo loccando le caviglie allora ma davvero la telecamera quante volte non vedevo e poi così aderente al terreno ma fammi un po' capire la situazione nel suo complesso chiedere un po' troppo cerca potere dell'anima allora uno due e va bene e va bene così e non siamo lontani da un altro livello non siamo lontani da un altro livello anzi sì sì stai serena anzi comunque fatemi pensare a una cosa 25 su 40 la stamina non è mai abbastanza mai cioè potrei mettere lo scudino adesso però questo scudone in realtà mi cambia la vita in meglio quindi quindi stiamo sereni ancora un attimo chissà se ostrava qualcosa da dire del fatto che abbiamo battuto quel tizio ma probabilmente non ne può fregare da meno i cavalieri della tavola rotonda ulan penso un po' è Camelot è Camelot dicevo sempre la nebbia e l'alito del drago il film Excalibur parla di Camelot e della tavola rotonda dei cavalieri della tavola rotonda del sacro grale eccetera ma a sto punto la nebbia la nebbia l'alito del drago cioè Miyazaki queste cose le sa più che bene qua è proprio Camelot quindi viene da pensare che sia una cosa di cui lui è perfettamente conscio in ogni caso anche tu in fondo sei un pimper ah no siamo più 4 non più 5 mi scuso prima ho detto che eravamo più 5 ora andiamo a più 5 eccoci qua bene torno vivo torno vivo ci provo è così tra l'altro loro siamo safe siamo umani umani allora allora abbiamo 3003 quanto serve sono ragionamenti troppo importanti non possiamo assolutamente non farli 4002 non è tanto non è tanto 4002 non è tanto 4002 dobbiamo fare una cosa no ma perché non hanno fatto niente di speciale a parte l'anima del demone che inviò a deposito come sostanza bianchiccia non è detto che possa quello in realtà è l'osso del ritorno perché lasciarlo a deposito questo è l'osso confermiamo che questo è l'osso del ritorno perché se è l'osso del ritorno male non ci fa non è l'osso del ritorno easy ok è il raddrizza è il raddrizza penalità del mondo devo andare a fare qualche scheletro ragazzi è il modo più rapido gli occhi rossi ci mettiamo troppo devo fare un paio di volte lo scheletro e lo faccio faccio semplicemente lui respawno faccio lui respawno che è il modo più rapido 3003 lo devo fare lo devo fare tipo 5 volte gli faccio ancora più danni adesso aia ok 294 vabbè va bene ok quindi esiste una sorta di osso del ritorno ok 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 vai a zappare 3009 AC 3009 sì è il posto più rapido che ho adesso eh non lo so se li ho già trovati non mi ricordo volevate il backstab no si fa così bene con l'affondo non è non è in vera di fargli un backstab ma dai ma ero dietro no probabilmente non abbastanza è veramente una no backstab non a questi tizi run qualche qualche drop allora ci siamo quasi dopo ci pimpiamo per forza di cosa la resistenza però non credo di andare a forse però due mutande riesco a metterle 4500 mi sembra che ci siamo mi sembra che ci siamo no ma di backstab abbiamo fatto tanto tanti a quelli piccini ma questo non becco il momento allora eccoti qua baby dimmi che non mi manca un'anima o cosa del genere ok 50 vado a 50 certo che anche questa non è male non è male per niente nonostante tutto vado a vitalità però non le sto riuscendo a mettere niente potrei andare mid cazzo meno forse vado un po più avel di quanto pensa adesso provo ad andare mid a giocare un attimo mid per vedere che cosa succede vestiti 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 ben tornato non tenete ma che due maroni mamma mia che palle sta gag allora in realtà quello mi interessa questo in realtà lo diamo per buono abbiamo già la corazza migliore che possiedo ma vai a zappare non me lo ricordavo ok allora andiamo a ridarti queste sono opzioni almeno proprio per non farla girare scalza sì 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 allora 22.9 su 49 ma sono scemo porca miseria ma dai non ci credo che ma pd vai a zappare me e chi non me lo dice allora 25 24 e 1 24 e 1 ci stiamo dentro 24 e 1 ci stiamo ampiamente dentro peccato per il 25 ma almeno i gambali dell'ufficiale glieli possiamo dare perché noi possiamo arrivare a 24 e mezzo beh sentite almeno almeno ai gambali dai sta anche bene tra l'altro sono in tinta coi capelli beh cosa volete di più perfetto brava river allora ci tocca che ore sono 17 e 19 non facciamo mica in tempo secondo me però un affaccio lo vorrei lo vorrei fare ma sì andiamo alla forza chi si ricorda cosa devo fare è bravo sì sì ci sta l'ultimo tentativo fra pimp e pimp di spada pimp ora questi vanno giù con un affondo almeno quelli base dai anche tu questo cambia molto l'area ma in realtà quindi io adesso devo andare dritto cioè ragazzi la mia tragedia è che non mi ricordo assolutamente cosa devo fare per tornare al ragno vado dritto qui c'è il lago di lava asciutto esatto dritto a sinistra esatto c'è il lago di lava lava come la salgo perché appena esatto la cosa che non potevo fare era salire nooo mazza river complimenti stavo guardando la chat vado di qua vado di qua beh d'altra parte sono salito da lì dove posso andare se non di qua vado di qua vorrei un vostro pg solo per farmi strada salgo mi affaccio qui sono in questo punto famoso esatto lui adesso fa le sue gag spara mo dai spara su dobbiamo fargli distruggere i barili è un po' lungo sto stronzo è comunque lunghissimo arrivare dal ragno e vai a cagare porca miseria i danni porca loca erba piena è una bellissima cosa quante poche erbe mezze che ho mi affaccio e ora memoria aiutami che cavolo si fa qua avevo detto la salita sekiriana però non era ancora il boss iniziano le tele di ragno vado a zappare a te chi non te lo dice eccoti qua ok ricordiamoci che c'è sta gag ascensore e abbiamo vinto ok non è improbo non è improbo per nulla forse il panzoni si può anche schippare Simone hai ragione non è assolutamente improbo non è assolutamente improbo era molto peggio il gigantone in realtà non abbiamo veri veri e propri ostacoli stronzi e ora c'è il boss che fa le sue bazzine col fuoco e noi speriamo di di starci dentro con grande pazienza facciamo risalire l'ascensore bravissimo Gabri grazie agli occhi al buio della nostra river a questo punto va vai va vai ecco dove sei eccola qua ah lo devo fare con il suo coso che dite mi butto lo faccio lo faccio dai lo facciamo dai ragazzi siamo in live evoco evoco è una cosa brutta da fare mi penalizza dai ci sta che cazzo MIV04 ma è uno di voi è un giocatore è un giocatore come fa ad essere qui io comunque lo evoco volentieri bella MIV sto parlando con qualcuno cosa dite ecco MIV ecco MIV c'è un oggetto MIV sei amico aspettami un attimo ho trovato un oggetto scusami MIV c'è il cazzeggiando ho trovato un oggetto sorry pezzo di pietra rani bene arrivo MIV ma quindi è un player ragazzi grazie se sei un player grazie se sei un intelligente artificiale grazie lo stesso bella è un player ok 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 lo conosco beh MIV chiunque tu sia bella lì vieni a prendere palle di fuoco insieme a me vedo che piacciono anche a te ah non è ancora scusami MIV io non non me lo ricordo quando è che bisogna scappare via perdonami MIV ma mi ricordo una fava ecco adesso bravissimo grazie scusami MIV sto cazzeggiando ok stavo cambiando l'erba abbi pazienza arrivo subito vai sereno MIV siamo ancora aggressivi MIV sì che lo siamo yes grazie MIV grazie MIV 0-4 non so fare le gesture ma sappi che mi sto inchinando anch'io thank you so much cioè non le so fare non me le ricordo come sono ora le faccio sei un grande bella lì ok devo raccogliere oggetti tu mi capirai anima di soldato famoso che sia la tua MIV eh sarebbe stato carino le avessero rese interagibili allora lì c'è una strada a dire il vero non particolarmente percorribile non particolarmente percorribile è uno di voi in chat ragazzi MIV nel caso volevo ringraziarti insomma è stato bello essere in due è stato bello essere in due in questa battaglia che vinco per la prima volta nella mia vita allora qui abbiamo l'arcipietà aspettate che mi voglio ravanare tutto anime non tantissime quindi viene considerato più forte il gigantone anima demone dura perché ti arriva solo quando arrivi all'arcipietra ok beh facciamole su facciamole su queste anime Nexus un cesto di frutta allora allora un livellino guardatela qui accovacciata state cercando il potere dell'anima sì sì molto volentieri allora grazie a tutti grazie a tutti Faccio vitalità Sì Ho finito Bene 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 Figo uomo stellato non la sapevo sta cosa A questo punto abbiamo fatto delle cose molto Entrambe le cose sono molto importanti Abbiamo esplorazioni nuove da fare qui Esplorazioni nuove da fare là La live manca una ventina di minuti Insomma non avanzerei davvero Però Per sport Per chi vuole rimanere connesso Per puro sport Sport Vado dal tizio con gli occhi rossi Perché ho voglia di riaffrontarlo Partendo dai cancelli Vado dal tipo con gli occhi rossi Perché se riuscissimo A fare un altro livellino Questa volta potrei metterlo a resistenza Forse il nostro fashion Sarebbe un po' meno fashion Un po' più sensato Ma poi io mi ricordo che questo Questo cancello Ma Boh Ok La mia incapacità Di ricordare esattamente dove sono È fantastica E comunque è un piccolo mid boss Il tizio con gli occhi rossi Anche a livello di anime Si fa rispettare Cioè te ne dà parecchie Cioè rispetto al ragno Te ne dà metà Tipo Ora C'è caso che in realtà Sia molto più facile il ragno A dire la verità Abbiamo visto che era abbastanza boiata Venite venite ragazzi Bella mossa Trementina fondamentale Quello è proprio la trementina Niente Niente Lo spazio per il baxter Non c'è Ciao O mi stai droppando roba no Forse non ti dà metà del run Forse un po' esagerato Vabbè vediamo Arriverà il giorno Che morirai con un colpo Tu e sarò veramente felice Erba mezza per due Tra l'altro mi viene in mente Che di fianco al gigantone Noi abbiamo la possibilità Di farmare di brutto Con i tizi con gli occhi blu Vabbè Sai poi che farm Ma c'è infatti Te stiracchiati Che è arrivata la tua ora Meglio godertela in relax E adesso la mia vera nemesi E adesso la mia vera nemesi Nettamente questo Sei nettamente la mia nemesi Sappilo Orca miseria se sei grosso Vabbè è andata bene Allora ci siamo Siamo arrivati Molto bene A questa fase Mi permetto di non fullarmi Visto che prima lo affrontavamo Con molta meno vita Però non oso Non oso combattere là Vieni ragazzi Beh se sbagli però è facile Cazzarola Easy 2000 anime così Erba piena Beh Beh Sono a 3004 Farò Siccome non mi ricredo Che me ne servano di più Scenderò le scale Facciamo più complicata Sto giro Facciamo proprio la pulizia Dell'area 1-1 Non ha mai combattuto così male Comunque il tizio Cioè c'è andata veramente di lusso Ehi Ah quindi due colpi tu L'altro è ancora vivo Lo scopriremo poi dopo Staccati Ok Se sei anime fondamentali Ah Danni abbastanza sciocchini Guarda se mi lascio indietro dei drop Erbetta che schifo non fa Fuoco Mi ricordo come faccio salire per ammazzare lui Oh Beh Vecchio Voglio farti un backstab Fai un colpo Vieni qui Eh Però Vex Vabbè 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 Non di qua Uh E tu Eh Questo era un backstab Come si scende Oh Ecco Non particolarmente ricco di anime questo Ma è però Questa spedizione Questi danno 40 Ma non è un grande livellaggio questo Mi sa che non ci sono Eh vabbè farò un paio di scheletri In quel livello là Era meglio andarci diretto Scenografico Adesso tu mi fai il piacere di Va vai Va vai No C'era il droppino Voglio quella trementina Anzi sarà merda L'oggetto supera la capacità di trasporto Ma ti fa venire voglia di buttarti in quel buco vero? Ma è finito qua Era un quadrello Ti fa venire voglia? Sembrano essersi tante anime Non è il momento di cadere Ok C'è un buco in quel buco? No sono d'accordo No no È solo per morire È solo per morire Però è molto invitante Per essere un buco Questo è morto così Ok andiamo a fare Qualche scheletro Un basso Dimmi quanto mi serve esattamente 4.900 4.900 Che miseria Abisso corrotto Non mi sono mai affacciato La casa di coloro che la società ha rifiutato Come era più simple Afflitti da veleni Si può anche non fare Vero questa parte qua Ah proprio se mi affaccio troppo Minchia è così pesa quell'area Eh ho voluto infierire invece Dai fammelo fare Era 4.900 Andiamo un po' a impazzirci qua Ah caro farming Vedo strani sondaggi 4.200 Ascoltà voglio vedere questo sondaggio Elden Ring o Anima Oscura 3 Cosa aspetti di più Vince Elden Ring Con tutto che Insomma Diamo il materiale a Sabacu Hai droppato? No Ancora un paio ne devo fare Dopodiché Resistenza E vediamo come riesco ad equipaggiare River Eh mi sto distraendo Eh no ma faccio prima fare così eh È più veloce Ho sbagliato Ho sbagliato Ok Fatto Nexus Vi ricordo che domani alle 15 live talk Abbiamo diversi temi anche videoludici di cui discutere Andiamo qua Andiamo qua Ok Ok L'altro non ci interessano forse più tanto i guanti contro il fuoco Non è del tutto vero Posso mettere i vecchi stivali rotti Che soddisfazione Esteticamente erano più belli questi Tra l'altro questi proteggono meglio dal fuoco Cioè infatti Questa sarebbe Questa sarebbe la figata Ma Per ora le lascio i gambali dell'ufficiale Dobbiamo andare in zona fuoco Niente L'ho fatto per niente Buono sapersi Posto Eh sì Eh sì Perché se la zona del ragno ha ancora tanto fuoco Stiamo così Stiamo così Buono buono Grazie mille ragazzi Grazie per aver seguito Questa La volta precedente È stata Solo dolore Questa volta Il dolore c'è stato Ma È stata molto proficua Molto proficua Questa Questa live Grazie ancora Per esserci stati Ci vediamo domani pomeriggio Se vi va Se riesco Domani mattina faccio una live extra Non so ancora di cosa Però potrebbe essere Guardate Telegram E Vi do una ending Infatti la stavo cercando A domani Non sono un amato di lo schien Non sono un amato di rock Non sono un amato di toffico Non sono un amato di rock Oh no Quanto blu Quanto blu Quanto blu Fai a zappare Ma non dovevi che c'è Ci penso io A me Siamo Sono un amato di toffico Papa Simon Dove cazzo Ma dove cazzo Sono Spari Simon Il Detacca è uno che ti chiama Col numero privato Ma tu sai chi è È l'unico che lo fa Pronto? Pronto il Detacca? Sì? Oh no Ma stiamo scazzando Non sono un amato thee Non 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 Dai bastardi Dedicati Pensi di casa Sanno Più a Luzio Alza Di coglione Non 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 Wow! Ma tu che cazzo dai? Eh, ma Gescio. No! Porco Dio. No, no, no. No, no, no.